Musica Lunedì 31 ottobre ben ritrovati con Infostudio Stamane in prefettura Cosenza, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica Dopo i tragici fatti di ieri a San Lorenzo del Vallo Dove madre e figlia Edda Costabile di 77 anni e Dida Attanasio di 52 Sono state assassinate molto probabilmente per vendetta Mentre si trovavano all'interno del cimitero Si apprestavano a pulire i marmi della loro cappella Quando qualcuno ha sparato loro con una pistola calibro 9 Per quanto riguarda l'arma del delitto E questa è una delle poche cose certe delle indagini Già si sa appunto con che tipo di arma l'assassino abbia colpito Ed è quasi certo che chi è entrato in azione per ammazzare Avesse anche il volto scoperto Però la dinamica di questo duplice omicidio è complessa E necessita di maggiori approfondimenti Per i quali si spera di avere a breve tutti gli elementi Per ricostruire l'azione nel dettaglio L'ha detto il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla Questo parlando in prefettura con i giornalisti A Cosenza a margine della riunione della COSP Le due donne uccise erano nel cimitero Sulla tomba del fratello di Francesco Attanasio Figlio di Edda Costabile Fratello dell'altra vittima di Ida Attanasio Che era morto per un incidente stradale Ma è proprio sull'altro figlio che è in carcere per omicidio Che si concentrano le indagini Perché Francesco Attanasio Nel maggio scorso Venne arrestato il 2 maggio scorso Dopo che i fatti risalivano a qualche ora prima Assassinò un suo amico Damiano Galizia Per un debito Entrambi di 31 anni d'età Per un debito che Attanasio non era riuscito a saldare Una famiglia per bene ha aggiunto Facciolla Riferendosi alla famiglia Attanasio Lontana da contesti di tipo mafioso Il legame e l'amicizia tra Francesco Attanasio e Galizia Troppi riboli di indagini aperti Ha detto il magistrato Bisogna rintracciare il filo che congiunge Il ritrovamento delle armi Che coinvolge la DDA di Catanzaro L'omicidio di Galizia Ed il duplice omicidio di ieri Il ritrovamento delle armi Cui fa riferimento il magistrato Il procuratore di Castrovilla Rifacciolla E quello che avvenne dopo che Attanasio Venne arrestato E indirizzò gli agenti verso un box All'interno del quale venne ritrovato Questo arsenale di armi Che forse era nella disponibilità di Galizia Il garage lo era invece Era di sua proprietà Nei giorni scorsi Investigatori della squadra mobile di Cosenza Erano andati a perquisire L'abitazione di Edda Costabile La donna uccisa ieri Perquisizione che potrebbe essere stata fatta Proprio nell'ambito delle indagini Sul ritrovamento dell'arsenale Il prefetto Tomao ha detto Che la situazione richiede la massima attenzione Ed esige una risposta immediata dello Stato Sia in termini di repressione che di prevenzione Siamo qui ha detto il prefetto Per esaminare la situazione E per adottare eventuali misure Per l'incolumità delle persone Di certo intensificheremo i controlli Da parte delle forze dell'ordine E il questore di Cosenza Luigi Liguori Ha parlato di vicenda di barbarie criminale Forse perché per la prima volta Deliberatamente si sono colpite Delle donne all'interno di un cimitero Segno che le regole di mafia Ha detto Liguori Non esistono più La prima volta che si colpiscono due donne All'interno di un cimitero Non è la prima volta che si colpiscono due donne Madre e figlia Più precisamente Contemporaneamente Era già accaduto Proprio Ed è una coincidenza A dir poco sinistra Proprio a San Lorenzo del Vallo Nel 2011 Tutti ricordano La morte di madre e figlia La figlia cercò scampo Sul balcone Dal quale poi dal cul balatoio Il cadavere era pensolato Fino all'arrivo degli investigatori Un duplice omicidio Particolarmente ferato A distanza di tempo Venne ucciso anche il marito E padre Delle prime due vittime Per una questione Che risaliva Anche in questo caso Una vendetta Risaliva Ad una lite Per un parcheggio Al termine della quale Il figlio Della famiglia Che poi venne trucidata Aveva assassinato Il figlio Di un boss Ha aggredito Due fratelli Entrambi con precedenti penali Al culmine Di una rissa Per motivazioni riconducibili A contrasti Dovuti a un prestito A natura finanziaria Durante la quale Ha estratto una pistola Sparando alcuni colpi Che non sono andati a segno I carabinieri Alla fine Hanno arrestato Tre persone I fatti Sono accaduti A Ciro Marina A proposito Per i tre arrestati Le accuse Sono di tentato Omicidio A vario titolo Chiaramente Lesioni personali E danneggiamento Nel corso della rissa Prima è stata danneggiata L'auto di uno dei due fratelli Per tutta risposta L'altro fratello Utilizzando un'asta in ferro Ha danneggiato a sua volta L'auto dell'aggressore La tensione è salita Al punto che Uno dei due fratelli Ha estratto una pistola Ha fatto fuoco Contro l'aggressore Ed un suo parente Che era intervenuto A dargli manforti I colpi esplosi Per fortuna Non hanno raggiunto I due uomini Che si sono dati alla fuga I due fratelli Sono stati portati in carcere L'aggressore È stato invece Posto agli arresti domiciliari È stato eseguito dai carabinieri Il provvedimento di confisca Di beni per 260 mila euro Ai danni di Francesco Sgro Ritenuto appartenente Alla cosca Serraino Di Reggio Calabria Si tratta di una casa Di un'abitazione Che si trova proprio a Reggio Di alcuni conti bancari Titoli obbligazionari E polizie assicurative La confisca E la prosecuzione Dell'operazione denominata Epilogo Che venne portata a termine Nel 2010 Dopo l'attentato Che prese il via Cioè dopo l'attentato Alla procura generale di Reggio Del 3 gennaio Del 2010 Nell'ambito di quella Inchiesta Sgro Era stato individuato Come colui Che pianificava L'attività illecita Della cosca Serraino In particolare I furti di auto E la loro ricettazione Ma anche L'approvvigionamento Di armi Munizioni Ed esplosivo E' morto E' morto ieri In un incidente stradale L'ex sindaco Di Acquaro Luigi Colaci Era alla guida Della sua auto Forse ha avuto Un malore Questa è la causa Più probabile Ha perso il controllo Della vettura Che è andata A sbattere Violentemente Contro la saracinesca Di una farmacia L'ha sfondata Tanto che la macchina Poi era all'interno Del locale Colaci era già In gravi condizioni Quando sono arrivati I primi soccorsi E' stato portato In area ambulanza All'ospedale di Catanzaro Ma purtroppo Non ce l'ha fatta E' uno dei più Insigni matematici italiani Il professor Angelo Guerraggio E per lui La Calabria E Crotone Particolarmente Non sono una tappa Del tutto inedita Anzi a Crotone Ha ricevuto Recentemente Il premio Pitagora E' tornato però Sempre come Firo conduttore C'era sempre Il pitagorismo E il legame Che ogni matematico Naturalmente ha Nei confronti Dell'insigni Matematico e filosofo Di Samu E questa volta Ha visitato Il museo Di Pitagora E di Giardini L'irresistibile Richiamo di Pitagora Attrae a Crotone Anche Angelo Guerraggio Cultore delle scienze matematiche Docente presso L'Università Bocconi Di Milano Ed autore Di numerosi volumi Sulla storia Della matematica Guerraggio Era già stato Nella città Del grande matematico E filosofo Originario di Samu Nel 2005 Quando gli era stato Assegnato proprio Il premio Pitagora E da maggio di quest'anno Nell'ambito del progetto Gutenberg Questa volta però Ha fatto visita Ai giardini Dal museo di Pitagora Nei quali Utiliscono sapientemente Natura, matematica ed arte Che rappresentano Sempre secondo Guerraggio Un luogo di divulgazione Estremamente accessibile Che può favorire Il turismo scientifico Tra i 17 exibits A tema matematico scientifico Nel primo museo all'aperto Interamente dedicato Alla scienza E alla matematica Il noto cattedratico È stato accompagnato Dal presidente del consorzio Giobel Santo Vazzano Col quale ha convenuto Sulla possibilità Di instaurare Una proficua collaborazione In modo da inserire Il parco Pitagora All'interno di un circuito Di formazione Ed educazione scientifica Il che rappresenterebbe Un nuovo sentiero Di sviluppo economico E culturale Per il territorio crotonese Anzitutto le chiedo Cosa gliene pare? Mi sembra un'idea Una prospettiva Molto interessante Quella di riunire Quella di riunire in un parco La natura Questo posto molto bello Nel quale mi trovo La matematica È un nome come quello di Pitagora Che per i matematici Dice molto Dice davvero molto Per le nostre radici E allora pensare A questo luogo Come una forma Un luogo di divulgazione Del pensiero matematico Anche in modo Molto accessibile Alle scolaresche Agli studenti Alle famiglie Ecco Questa mi sembra Una prospettiva Per quello che io riesco A capire Una prospettiva Molto interpromettente Noi abbiamo sempre Avuto la percezione Che la città Abbia solo in parte Apprezzato Questo polmone verde Da un lato E questo Quacervo di cultura Dall'altro Lei da accademico Da immagino Ogni matematico È un po' Pitagorista Diciamo così Come suggerirebbe Di sfruttarla? Io Ecco Adesso ovviamente Non conosco Le reazioni Della città Se è interessata O meno A questo E anche Non posso Come dire Venendo dall'esterno Ed essendo arrivato Oggi e adesso A Crotone Dare dei suggerimenti Validi Affidabili Però quello che posso notare È che in Italia In questi ultimi decenni Questi ultimi due decenni Non è una storia È una storia recente Si sono venute Configurando alcune esperienze Proprio di Diciamo Di consumo Di consumo È una parola brutta Ma di consumo scientifico Voglio dire Vedendo questo parco Vedendo tutti Gli exibiti Eccetera È chiaro che non si fa scienza Però è un modo Per avvicinare I ragazzi I giovani E anche gli adulti Per avvicinarli Al pensiero scientifico In questo senso Parlavo di consumo Di turismo scientifico Ed è una cosa Che secondo me Ha un presente E ha un futuro Come siamo abituati A portare Ad andare noi A portare i nostri figli I nostri ragazzi A vedere una mostra Del famoso pittore Del famoso scultore Ecco mi sembra Ugualmente Bello Legittimo Che si vada Per esempio A Crotone A vedere Il parco Dedicato a Pitagora E dove la presenza Di Pitagora Non è solo un nome Ma attraverso gli exibiti E anche un avvicinarsi Alla sua matematica Sono riprese stamattina Erano state interrotte Ieri sera Per il buio In Aspromonte Le ricerche Di uno di 69 anni Che si è perso Andando in cerca Di funghi Proprio Sulla Spromonte Nell'area di Canovai Serra Cerasia Soccorso alpino Guardia di finanza Reparto volo Della polizia Stanno partecipando Alle ricerche La prefettura Di Reggio Prosegue costantemente L'evolversi Della situazione A Rosarni I carabinieri Hanno arrestato Un uomo Che era già Gli arresti domiciliari Per altri reati Si chiama Salvatore Pisano E ha 29 anni Che è accusato Di essere L'autore materiale Di una rapina Avvenuta il 30 aprile 2015 Ai danni di una farmacia Qualcuno entrò Nella farmacia A mano armata E col volto coperto Il provvedimento Fa seguito Alle indagini Che portarono Nell'immediatezza del fatto Quindi poco dopo Il 30 aprile 2015 All'arresto Di un'altra persona Francesco Amato Anni che gli investigatori Ritengono essere Il complice Di Pisano E siamo al calcio Il Crotone Festeggia la sua prima Vittoria In Serie A Esattamente Sei mesi E un giorno dopo Il 29 aprile Quando conquistò a Modena La promozione Dal punto di vista Matematico Quindi Da allora Si può dire Che a Crotone Non si festeggiava In maniera piena Compiuta E 70 Esattamente 70 giorni Dopo l'inizio Del campionato Dal 21 agosto Tanti ne sono Trascorsi Fino a ieri Certo E' presto Per dire Che il tunnel Sia stato imboccato La fine E' ancora molto distante Però Intanto Il Crotone adesso Mostra molta Maggiore convinzione Comincia Nel suo stadio A far vedere Che le cose Non erano Proprio Uguali Il fatto Cioè Di giocare In campo neutro In trasferta Oppure Oppure di potere Disporre Dell'appoggio E dell'afflato Del proprio Pubblico E poi Mostra una convinzione Che fino a questo momento Non era Riuscito a Palesare Oltretutto A pochi giorni Ad una settimana Di distanza Dalla pessima Gara Contro il Napoli E dall'ottimo pareggio A quattro giorni Dall'ottimo pareggio Di Firenze C'è poi il secondo risultato Utile e consecutivo La continuità In classifica Accorcia ulteriormente Le distanze Adesso Sono quattro Le squadre In due punti Anche se il Palermo Deve ancora Giocare Però Da questo momento in poi Forse Inizia davvero La stagione Rosso-blu Può iniziare davvero Ci ha messo esattamente 70 giorni E si è fatta attendere Ma alla fine La prima storica vittoria In Serie A Del Crotone È arrivata Non poteva che accadere All'Ezio Scida Il cui effetto Si comincia ad avvertire Niente rimpianti però Non ora Il 2-0 al Chievo È meritato Sofferto il giusto Anche se i veronesi Hanno poco da recriminare È stato il Crotone A fare la partita Ad avere migliori E più numerose occasioni Determinato Volitivo Finalmente consapevole Che era poi quello Che pretendevano i tifosi Dopo il disorientante Avvio di stagione Nel Chievo Non c'è Meggiorini Nicola conferma In blocco Alla squadra di Firenze E fa bene Pronti via Ed è subito gol Annullato a Rosi Per fuorigioco Ma i padroni di casa Non si scompongono Anche se Kordaz Deve neutralizzare Un destro potente In diagonale Di Birsa Sfuggito a Mesba Stoian Che sarà anche Il più sfortunato E il più vivace Da sinistra Ad esterno destro Invita Falcinelli Alla Zucata Ma la traiettoria È un po' troppo ad uscire Per essere corretta Con forza Verso la porta Con l'ingresso Un po' a sorpresa Di Nalini Il Crotone passa Al 4-4-2 Ma la pericolosità Non ne risente Al ventunesimo Sul sinistro di Trotta Servito da Falcinelli Sorrentino si allunga Per respingere Ma non ci sono maglie Rossobluo Ad approfittarne Il Chievo Ogni tanto si scuote Floro Flores Fa tutto da solo Ma non trova la porta Il vantaggio Arriva nel minuto Di recupero Del primo tempo Ed è un premio Alla determinazione Rossobluo Mesba Trova uno spiraglio E si infila in area E Castro lo aggancia Proprio sotto gli occhi Dell'arbitro Che assegna al Crotone Il primo rigore stagionale Trotta e Falcinelli Se lo contendono E alla fine il primo A tirarlo con una prefetta Trasformazione sotto l'incrocio Alla sinistra di Sorrentino Dopo il riposo Marani inserisce Radovanovic Per Rigoni E poco dopo Anche Pellissier Per inglese Ma è il Crotone Ad andare per tre volte Vicino al raddoppio Negato da un super Sorrentino La prima è in apertura Di ripresa Con un destro a giro Di Nalini deviato Oltre il fondo E sull'angolo successivo Con un doppio Strepitoso intervento Notevole quello Su Falcinelli Porta in tosa La replica Sulla correzione Da due passi di trotta Che già pregustava La doppietta E infine Al quarto d'ora Smanacciando Oltre la traversa Una punizione di Barberis Straordinaria La sua partita Crotone a quel punto Comprensibilmente Tira un po' E Remi in barche Ed invita E giallo blu Ad avanzare Un paio di incertezze Difensive Mettono i brividi Soprattutto quando Etemai Selve al limite Floro Flores La cui conclusione È però centrale È la migliore occasione Per il Chievo Perché poi È ancora Sorrentino A dover disinnescare Una punizione bomba Di Capezzi Ed al secondo Dei quattro minuti Di recupero La tensione Dei più sofferenti Fra i tifosi Rossoblu Si scioglie Etemai gioca col fuoco Sampirisi approfitta Della sventatezza Del finlandese E dal fondo Serve Falcinelli Che brucia Gamberini E in scivolata Sigilla la gara Col suo terzo centro stagionale Il Crotone sale A quota 5 Compatta il fondo classifica Quattro squadre Racchiusi in due punti E comincia a capire Che anche Cenerentola Può partecipare Al gran ballo Senza sfigurare Stasera alle ore 21 In differita Naturalmente In esclusiva Videocalabria Trasmetterà Ritrasmetterà Per la verità La partita appunto Tra Crotone E Chievo Verona E chiudiamo Con un paio Di notizie Di cronaca Amminacciato e ferito Ad una mano Con un oggetto Accuminato Il titolare Di una fioreria Per farsi consegnare L'iPhone dell'uomo È accaduto a Rende I carabinieri però Lo hanno individuato E l'hanno arrestato Per rapina E un cittadino Senegalese di 32 anni Il responsabile Di questo ferimento Risiede in città Avrebbe minacciato Il commerciante Proprio Per farsi consegnare Lo smartphone E poi È la notte Di Halloween Quella che ci apprestiamo A vivere Ma c'è chi Come in altri casi Tanti altri casi L'epifania Natale Eccetera Sorveglia Che come dire Le cose Vadano bene In questo caso Parliamo di controlli Da parte Della Guardia Di Finanza Per prevenire La commercializzazione Di prodotti Nocivi O addirittura Pericolosi Per la salute Infatti Nella Cosentino La Guardia Di Finanza Dopo una serie Di controlli Ha sequestrato Circa 3 milioni E mezzo Di articoli Tra capi Accessori Di abbigliamento Si tratta Di maschere Materiali Di genere Horror Gadget vari Che venivano Che dovevano essere Avrebbero dovuto Potuto E per fortuna Non sarà così Essere usati Per travestimenti In occasione Di Halloween Una persona È stata denunciata Per contraffazione Altre sette Segnalate Per violazioni Amministrative È tutto Per questa edizione A tutti voi Grazie Per averci seguito Appuntamento Alle prossime Grazie a tutti Grazie a tutti